ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Kingdom Hearts 3 Siamo vicini al finale, oggi infatti andremo nel luogo quello, guardate, sconosciuto Sì, allora innanzitutto vediamo un po' com'è che dobbiamo partire Perché qua la mia nave, vedete, questa è la forma finale che ha Dove che sta? Questa è la forma finale che ha avuto ma non penso di doverla potenziare ulteriormente Ma Miniship invece sì, la potrei potenziare Ok ragazzi, io sono pronto Allora, guardate, vi faccio vedere molto brevemente un riassunto Noi praticamente siamo partiti dalla via stellare, dal mondo di Hercules che è questo qua sotto E che è l'Olimpo insomma Siamo andati poi negli altri tre mondi che vedete qui che sta quello di Rapunzel Quello di Monstersenck, no, quello di Toy Story e quello di Crepuscopoli Poi nell'altra zona invece abbiamo visto quello di Big Hero 6, quello di Pirati dei Caraibi che era un ritorno Quello di Monstersenck e quello di Frozen Quindi siamo già a sette mondi, se non sbaglio, no, otto mondi Che sono pochi rispetto agli altri Kingdom Hearts E adesso dobbiamo andare, siamo nell'area dell'eclisse e vediamo un po' Che cosa si aspetta Preparati, vediamo La Miniship è questa Qua la Miniship Beta, abbiamo solo la Miniship Alpha La Miniship Beta non l'abbiamo a disposizione Vabbè, inizia il viaggio, vai Io credo di sapere dove andremo, però vediamo un po' Per questo scontro finale Oh, cambia anche la canzone E che razza di posto è? Perché non... Non gammina il tipo qua? Che percorso? Verde? Andiamo di qua Boom Ehm... La destinazione non mi è molto chiara Ah, ecco Adesso ho fatto già E' a destra, è a destra Ma stiamo tipo in una navicella, non mi è chiaro Ora poi teletrasportate ad una nuova destinazione Cioè Andiamo di qua Ma io non sto capendo dov'è che stiamo andando Ora poi teletrasportate ad una nuova destinazione Di nuovo Oh, quattro da un monemico Un monemico, un monemico Eccolo Distruggi la piramide colossale Questo mi ricorda molto Un gioco che stava Un gioco dove si faceva questa stessa cosa Con la navicella si sparavano Agli atto Un solito E' la miniship Vai miniship Aiutami Distruggi tutto Merda Muori bastardo Oh E' morto Ancora Se due barre di vite Che è sta mafia Arma All'arma All'arma da Di curarsi Oh Che sto facendo Non lo so nemmeno io Il motore Gli sto facendo Glielo ha fatti fuori tutti E che palle Bene Bene Ecco Lo sapevo io Il cimitero dei Keyblade Si ritorna di nuovo qui Quante volte siamo venuti in questo posto In passato Il cimitero dei Keyblade Un vero studioso trova indizi per il futuro negli errori del passato Prova prova Ex organizzazione Zexion numero sesto Giardino radioso decifrare il codice Vediamo Vediamo Oh Eccoli Mamma mia It's time The Keyblade graveyard is up ahead Someone's coming Xehanort Legend has it The darkness once covered the world We know so little about the Keyblade war Only that it was just the beginning If ruin brings about creation What then would another Keyblade war bring? When the darkness falls Will we be found worthy Of the precious light the legend speaks of? Or will all of creation be instead returned to the shadows? Today we will recreate the legend and see But first Your light shines far too brightly It must be extinguished In order for the truth to be seen Only when your hopes have been broken By battle upon battle Can the Key be claimed To Kingdom Hearts And break you is what we shall do It has been etched Look at how many there are Oh Okay gang Get ready Mamma mia Si combatte Manca a vedere Il Keyblade è quello buono No Mamma mia Che cazzo Usiamo il legame Incontro al plasma Vediamo un po' Ehi stage Allora stage Non so che strage faremo qua Vai epilogo Perfetto Dominio aereo Dominio aereo Dai tozzoni Morite tutti Ma quanti cacchio sono Sono migliaia E io li dovrei eliminare tutti così Vessillo del vento Vessillo del vento Ah questa non me la ricordavo Dove ho fatto una bagnata Chi è? I golem Mamma mia Trio guardiano Questo fatto del colpo di scudo E' sempre troppo strano Questa abilità Vabbè l'imbordante Vi faccio modale Non ci facciamo mai danno nulla Meno mai Visore blaster Spariamo Tozzoni Andate a morire male Vai Ok vai Pa 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 Pababababababababababab… No da me, sono veramente tali… usiamo il legame il legame simba eccolo qua simba che lui mi sta simbatico oh oh zampa gli addosso oh si vai brucia 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 mamma mia esplode oh giostra magica usiamo la giostra magica vediamo oh eccolo fighissimo attacco aereo di quelli bruci madò saltate per aria sozzoni per usare epilogo e dare colpo di grazia vediamo 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 qual è sto colpo di grazia oh mamma santa bomb hai appreso glide planare planare grazie all'abilità glide se tieni premuto cieco mentre sei in aria percorre una grande distanza planando le terre desolate oh come si fa a planare abilità ma non sta attivata sbaglio vado a attivare infatti tieni premuto cieco quando sei in aria per planare mentre sei in aria ok il super scatto no questo non mi interessa questa è utile questa è buona questa è buona pure ok direi che va bene dai oggetti ecco penso che non abbiamo più di oggetti quelli permanenti va bene oh quindi questo combattimento l'abbiamo superato un baule ok ragazzi qui si può salvare mappa mondo qui c'è uno screen eccola dove stanno tutti gli alberi è tutti ok come on let's go eh terra terra ven terra abbiamo trovato terra per favore diciamo che sei in là ecco I know that you're not him. Now let our friend go. Ecco. He is their 13th. Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13th, every last one of you will be torn heart from body. Mama. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. Hmm. Oh. Ven! That's it! Ah, good God. Axel! No, Sora! No! 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 Oh. Ok. 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 Oh. This can't be real. Huh? Oh. Oh. Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right. We stand together. Hmm. Mickey. Kairi. Goofy. Watch the others. No. We should all get to safety while we still can. It's too late for that. Aaaaaahhh. Theest. E' questa Ma che qua? Sera! Sono andati. Kairi, Donald, Goofy... Il Reino... Andati sempre. Cosa faremo? Semo loro... Tutti i loro. Mi hanno dato tutto. Tutti i loro. Solo? Mi non valore. Mi hanno perduto. Mamma mia. È terminato. Sora... Non credi in questo. Lo so che non credi. Non credo. Che succede mo? Che succede mo? Che... RAKIOA l'oscurità prevale la luce spira cos'è l'oscurità l'oscurità Sì, non è finito. Come on, non è vero. I know I had you. Sì, hai quasi fatto. Ma un gioco non è divertente se sai dove è andata. Ci sono più a la luce che si mette l'occhio. Sì, l'ho detto. Quale luce viene dal passato. Dal passato. Sì, l'ho detto. Boh, che cosa significa sta cosa? Where am I? No. 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 Il mondo finale. c'è un altro mondo da esplorare oh beh questo non me lo sarei mai aspettato ebbene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video